È forse una delle racchette più attese del 2023. In tanti mi avete chiesto una recensione, ne si è parlato a più riprese anche su Paddle Chat, il canale Telegram interamente dedicato al padel e ora è arrivato il momento. La palla numero uno del numero uno è finalmente atterrata sul canale e devo dire che per Adidas è un esordio assoluto qui. Oggi infatti parliamo della Adidas Metalbone 3.2 firmata da Ale Galan. Per la nuova linea è stato applicato un restyling e per stavolta devo dirvi che questa racchetta mi ha davvero entusiasmato. Mi è piaciuta molto sotto tanti punti di vista e andremo a parlarne insieme qui, non prima però di aver fatto un bel subscribe al canale e messo un like al video che sono i migliori modi per sopportare il mio lavoro. Se poi volete vedere crescere sempre di più questo progetto c'è anche un programma di crowdfunding che trovate in descrizione e se vi va di sostenermi anche economicamente, un caffè al giorno ipoteticamente, potete fare un'offerta ma assolutamente libera, trovate tutto in descrizione. Ora andiamo a vedere se questa Adidas Metalbone 3.2 è la racchetta che stavate sognando. Il colpo d'occhio va subito alla rivisitazione grafica che, devo dirvi la verità, all'inizio non mi aveva scaldato particolarmente ma poi una volta avuto in mano mi ha convinto. Infatti la grafica e i colori sono molto belli e accattivanti. Parliamo di una racchetta di forma a diamante oversize con una struttura ottagonale e un ulteriore rinforzo del telaio. Ha un peso che va dai 345 ai 360 grammi ma che, dotata del sistema Weight and Balance System, può essere incrementata fino a 12 grammi con la mia che pesa 372 con tutti i pesetti montati e come sempre ovviamente senza l'accetto. Il bilanciamento è medio a 25 centimetri, i piatti sono in carbonio alluminizzato e la gomma interna è una Eva Soft Performance che unisce resa e comfort. La racchetta è dotata di una protezione 3M Metal Bone che rende la superficie, seppur liscia, molto resistente. Mentre dal punto di vista tecnologico abbiamo lo Smart Holds Curve e lo Spin Blade, ovvero una particolare lavorazione 3D sullo stampo che aiuta a conferire ottimi, ottimi effetti. Prima di passare alle sensazioni di gioco di questa pala, vi faccio dire due cose direttamente dal testimonial alle Galan che, a Premi e il Padel, Milano, me l'ha raccontata così. Bueno, este anno, además del disegno, è lo più facile di vedere, abbiamo migliorato materiali, sento che la pala mi aiuta molto più, è più compacta che a l'ora di blocciare quando i rivali mi stanno attacando, è molto compacta e mi aiuta a seguire il golpe che non tiembla, anche se i jugatori mi attacchino. E io credo che questa rigida di struttura e il cambio che abbiamo fatto anche nel rugoso, nel Spin Blade, mi aiuta molto più. La verità sto super contento perché faccio qualcosa. Devo dire che questa racchetta mi è piaciuta moltissimo perché mixa in maniera sapiente per il mio gioco la potenza, il controllo e la sensibilità. È un pochino quel colpo di fulmine che già dai primi colpi ti regala un feeling notevole. Partiamo da la cosa che mi ha più impressionato in assoluta, il bloccheo. Non mi è mai capitato di essere così efficace rispondendo ai colpi di potenza degli avversari. Solidità, maneggevolezza per arrivare nel punto giusto, nel momento giusto, è una risposta pazzesca. Ovviamente questo è un piccolo compartimento del gioco, ma il comfort che mi ha dato da fondo campo è stato totale e andata bene anche in quell'ambito. I pallonetti escono con disarmante facilità, cichite e colpi di precisione sono ottimi e anche il punto dolce è piuttosto generoso per una palà diamante di questo tipo e mi ha permesso di uscire da situazioni difficili con ottimi risultati. A rete è molto incisiva quando serve perché la maneggevolezza e il bilanciamento medio aiutano molto a muoverla anche negli scambi ravvicinati. Forse pecca un filino in potenza gratuita, però parliamo di una palla che si fa ampiamente rispettare anche sopra la testa per colpi incisivi o addirittura risolutivi. Unico vero neo? Il laccetto. È piuttosto scomodo e da arrotolare ogni volta con il rischio che si arricce e dia una sensazione di scomodità non è il massimo. Anche il manico non è enorme, non a livello NOX, ma non è enorme. Io devo dire che comunque non mi ha creato nessun tipo di problema. Il bloccheo, ve l'ho detto, non ho provato tante racchette che mixassero solidità e compattezza con maneggevolezza e incisività in risposta ai colpi di violenza degli avversari. Sono rimasto abbastanza colpito da questa peculiarità che mi ha garantito diversi punti che prima generalmente non facevano. Il feeling sicuramente è una cosa personale, ma la sensazione di essere sempre a mio agio con la racchetta è stata totale sin da subito. Quando ho dovuto spingere mi sono sentito sicuro nel movimento e nella possibilità di spostarla con rapidità. Sui pallonetti in difesa non ha mai deluso e l'uscita di palla con il buon punto dolce mi ha sempre aiutato molto. Nonostante i 372 grammi la percezione è di leggerezza. Sembra impossibile, ma è così. È una racchetta che a mio modo di vedere non ha un vero e proprio punto debole debole, ma non perché sia mediocre in tutto, ma perché ha un alto livello in tantissimi lati del gioco il comfort a fondo, a rete o nelle difficoltà magari schiacciato verso la parete, ecco in questi campi mi ha convinto a pie. Il laccetto si aggancia in due punti al manico, ma è davvero poco confortevole da fissare al polso perché bisogna fargli fare alcuni giri arrotolando fisiologicamente, non c'è alternativa. Questo è forse l'unico dettaglio che davvero davvero pecca in questa racchetta. 380 euro non sono spiccioli, non c'è nulla da dire. Se è vero che i prezzi sono saliti ancora, rimane un investimento non trascurabile per una pala, quindi se tecnicamente va benissimo e la consiglierei, non è adatta ovviamente a tutti i portafogli. Come avete capito questa adidas metalbone 3.2 mi ha davvero convinto, mi sono trovato benissimo e si è sposata perfettamente con il mio gioco. Era una delle pale più attese di questo inizio 2023 e non ha tradito per nulla le aspettative. La possibilità di customizzare i pesi e quindi variare il bilanciamento la rende ancora più adattabile a ogni tipo di gioco e necessità. Feeling, solidità e qualità costruttiva sono al top e il collaudo di Ale Galan non vi farà essere lui come vi dico sempre, però vi potrebbe far fare un bel salto nel vostro gioco. Questa la potete acquistare con il link in descrizione da Sportnet e con il codice SIMOPT potete avere un 10% di sconto sul prezzo di destino. Costa tanto ma pagare meno perché no. Applicando il codice potete avere sconti su questo ovviamente e su tutte le pale del catalogo. E voi l'avete provata questa nuova metalbone? Vi piace? La comprereste se doveste ancora farlo? Fatemelo sapere qui nei commenti che sono curioso. Vediamo se riuscirete a spegnere o alimentare un pochino il mio entusiasmo. Io vi ringrazio come sempre di aver visto il video fino in fondo e se avete qualsiasi domanda fatemela avere con un bloccheo ovvio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.